benvenuti in questo video, oggi abbiamo un nuovo abitante, guarda questo si chiama cotoletta praticamente, cotoletta abbiamo a posto, benvenuto cotoletta chi è? chi è? a po, cotoletta benvenuto, ma abbiamo tre villager, un altro questo frida, benvenuto, tu che cosa vendi? vabbè roba più o meno utile però benvenuto, venghino signori venghino lei è benvenuto, vabbè io mi levo dal cazzo così non si sente osservato a posto vabbè devo fare il letto in più, ma eh signora abbiamo i villager buoni, pure se sono villager c'è tipo di un tipo diverso uovo generatore di vessante, chi cazzo è il vessante? ah quel fantasmino, no per caeta no per caeta no per caeta beh, di vessante angulamante no 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 per caeta allora, mo patata, la patata manca mai la terza l'abbiamo droga ne abbiamo, eh patata ne abbiamo, come? ma tu ci sei posso fare colpa d'aria? vai sticcaccia, faccio un po' a scrazzi no, questo è brutto, poi ci sono, ehi, fammi fare la meglio cosa pacifica pa, puf, magia che è mai barare, mi ha fatto un cazzo quelli sono rompi i pali perché evocano gli dei praticamente evo, quelli sono praticamente dei maghi cattivi, quelli evocano quei fantasmini di qualche episodio fabbolo un libro con penna, la carta, la piuma, un cd musicale, si guarda il vinile che è? allora questo mi serve si si, ma quello che hai fatto è barare, ehi, senti è sti cazzi è il magico mondo del sti gran cazzi questo è metto qua, la piume, ci stanno, se eb il cd musicale, io che cazzo me ne faccio är avuto qua ebbl questo e questo e questo io lo vado a mettere qua anzi per cambiare cia t counseli a uns punk clicando per cambiare E tu tu sei Allora Io a questo lo ammazzo Perché se lo libero mi fa fuori tutti i villager No no Per verità grazie di vederci Un altro villager che cazzo vedi Vabbè Questo Bevi i nomi però Entri Prego Maesia Maesia prego Entra 9-3-6 Madonna che palle Maesia Veloce Vedi che Tornano da perdere C Un upgrade Buono così Facciamo il conto all'overse come capodanno 8 7 6 5 4 3 2 1 1 Buono Che cazzo Ah il nether Buono Oh ma questo è facile Questo è anche più veloce Ti è Questo Essendo burro questo Chi è No perché io Io ho pure i nuovi blocchi del nether Io ho pure i nuovi blocchi del nether Quindi c'hai capito Mo c'è anche Perché tipo questi qua A nether what Non faccio Da rompere Perché sono burro E perché poi tra l'altro io non ho solo Uh Questi Questi io li ammazzo Cioè dico perché io non ho i vecchi blocchi del nether Nella 1 Nella 1 C'erano gli aggiornamenti del nether Ah non mi avevano attaccato perché c'avevo già il corso A posto Ma è che così La netherite Beh Ah cazzo è vero Nella 1 16 C'era già la netherite Uh Dei dritti antichi Beh 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 Ora posso pure fare Il portale del nether Tutta la camera del mondo Però giustamente lo potrei fare Eh sì Ossidia Me ne mancano 10 No bugia 9 Perché 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 10 Eh sì Eh sì Perché io lo farei senza gli angoli Cioè gli angoli Boh Metto dei pezzi di pietra Si cazzo Un altro corso di nether Questa Questa è rarissima Questo blocchio è rarissimo Che io non ho mai trovato nella mia serie Vabbè Oh chi cazzo sono questi Vabbè facciamo così Vabbè non c'è blocco Questo è l'ossidiana che piange Guarda vabbè piangente Vabbè il blocco di ossidiana Figo È sempre ossidiana Quindi ci vogliono Tre secoli L'ossidiana piangente Tiè poi ci sta Che cazzo è triste Boh Ah comunque Con l'ossidiana piangente Non posso fare Il portale del nether Mi serve soltanto L'ossidiana normale Ah vabbè il quarzo Schifo non fa Oh Moccate C e c e cos Vabbè li colpisco Da Dal lontano A parte che questa è carne Permetti Ghi 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 Eh vedi È giustamente qua Muori C'è una spada Vabbè Poi faccio la spada in Oh E non morici Oh Che cazzo Aspetta Fammi fare la spada in diamante C'è Oh Ce l'abbiamo Che cazzo Non era qua Era qua Oh Dio cristo Anzi Sai che c'è Visto che questi sono un po' Chi luminosi Non mi C'è Eh Vabbè Io lo metto qua C'è Così Per ora Finbasta Ragazzo Qua è A posto I mortaggi Vabbè No Vabbè Sì sti cazzo Ma dove è il brace La cosa del brace Vabbè Che cazzo E questo chi è Vabbè Questo non è innocuo Eh Questo no Che cazzo Questo è innocuo Quindi Boh prego Che cazzo Che vuoi dire Boh è Questo Questo vabbè C'ha freddo Perché questo Sta meglio nella lava Però non muore Finché non muori Finché non rompi le palle E non se Ma questo Se io metto la pacifica Scompare Vabbè Vabbè Sti cazzi Poi lo scopriremo Eccolo Eccolo Vabbè Questi Ma te Smono No Ovvio Che cazzo Vabbè Facciamo così Così esploda Perché sono Rottore di paraccia Vabbè Vabbè Distrutto niente No vabbè Meglio così Meglio così E barare Non lo so Non me ne frega niente Beh Devi morire Vabbè Questi moriranno Da soli Tranquilli Eh Io Io prima Gli avevo messo La pacifica Per togliere i gas Quindi Quindi Questo qua Fa parte Cioè Questo qua È innocuo Meglio così Beh Fammi cambiare il pavimento Ma è a posto Cioè Scusa Visto che io Mi sono costruito questo No Ok Ok Vabbè Sai che c'è Io lo costruisco qua Levate dal pifero Chi è Ah po Così io qua Posso mettere il Così Andiamo alto Qua metto il blocco L'ingotto di renderite Ah post Così posso fare il coso Bello Ah post Vedi così Ah post Allora scusa Visto che qua Visto che qua Per la maggior parte Si usa Il Il Piccone Eh Scusami Cioè Oh I piccone Inaderite Visto che qua Per la maggior parte Io devo scavare Chi è Sì Domandi Sono un pirra Lo potevo prima Riparare Vabbè sti cazzi Potevo prima Riparare Il piccone In diamante Per farlo Dino Vabbè Fa niente Dai Uh Questa è Utile Vabbè Utile Almeno Ma signore Noi ci vediamo Nel prossimo video Calate like